L'assegno unico universale per tutti i bambini, vuol dire per tutte le famiglie, per tutte le categorie di lavoratori, per i tanti lavoratori, gli imprenditori, le partite IVA, i liberi professionisti che oggi sono escluse da queste misure di sostegno alla genitorialità. Investimento in educazione, la rete educativa della Regione Veneto è una rete ricca anche di esperienze nel mondo del terzo settore, dell'associazionismo, le scuole paritarie che rappresentano davvero una ricchezza virtuosa in questa regione. Sostenere l'educazione significa sostenere una comunità educante fatta anche dal protagonismo di questi soggetti. Il protagonismo dei giovani, formazione, innovazione, tecnologia, le nostre università sono importanti, le università del Veneto sono realtà straordinarie. Solo in un concerto tra il governo nazionale e quella necessaria autonomia che le regioni devono avere ma che deve essere esercizio di responsabilità importante per i territori, ecco solo attraverso questa sinergia possiamo davvero far ripartire l'Italia anche dopo questo momento di difficoltà perché abbiamo una grande opportunità che ci viene offerta ma nello stesso tempo una grande responsabilità. Io credo che il paese oggi abbia bisogno di riconciliarsi, di riconciliare le parti perché solo ricomponendo e creando alleanze si può davvero offrire quello che dobbiamo offrire, cioè un servizio ai cittadini. Ricordo che l'Assegna Unica Universale è stato votato l'unanimità dalla Camera dei Deputati. Penso che sul tema delle scuole non dobbiamo fare uno scontro ideologico, siamo in campagna elettorale, è vero, ma impegniamoci tutti a non fare di questo percorso di riapertura delle scuole un terreno di scontro o una battaglia ideologica. Nel caso di una quarantena di una classe dovuta ad un caso positivo i genitori non sarebbero in quarantena ma devono avere il diritto di poter rimanere a casa a costruire i loro figli e su questo mi sono impegnata, il governo è impegnato a dare le risposte e per questa parte stiamo lavorando per scrivere le norme che riattivino i congedi parentali che già in tempo Covid avevamo attivato e il diritto allo smart working in modo straordinario per rispondere a questa esigenza puntuale.